Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team Udines e Sassuolo matematicamente salve si affrontano per la storia i bianconeri vogliono vincere per non essere la peggiore degli ultimi dieci anni i noroverdi al contrario non sono mai stati così in alto superati di 9 i 34 punti della scorsa stagione per la 37esima giornata del campionato Serie A Team al Friuli di Udine i padroni di casa ospitano il Sassuolo di Francesco attenzione la palla per Perizza Perizza tu per tu col portiere Perizza il solo profumo di gol Stipe Perizza in mezzo esce Carnese Sallan in qualche modo deve allontanare l'applauso per il portierino cresciuto e coccolato in casa Simone Scuffett con il secondo palo Danilo la paratona di consigli di istinto Perizza che ha allargato per Torol il traversone sul secondo palo Allan non ci arriva e fastidisce con il buon gioco di Fontanesi l'appoggio Zaza dentro l'aria tutto solo Zaza il miracolo di Scuffett è una parata incredibile anche questa Floro Flores Cipsa il movimento di Zaza che perde un attimo i riferimenti l'orientamento poi ancora Simone Zaza in qualche modo con il tacco riesce ad andar via a concludere questa volta di destro intanto Zaza il tiro il diagonale destro esce di un soffio alla destra di Scuffett l'appoggio per Di Natale prova la girata di prima intenzione Badu lascia Di Natale che prova un pallonetto incredibile che magia Di Natale salva tutto Cannavaro Pallo di Vigione per Berardi sulla sinistra per Allan che si accentra attenzione ad Allan la trivela non arriva sul pallone ne con i ne Badu il tiro protegge il pallone ancora Berardi la sponda per Magna nel tiro e la rete il primo gol in Serie A team in carriera per il capitano dieci anni con la maglia del Sassuolo il capitano Francesco Magnanelli ancora Zaza fermato con le cattive la spalla dice Zaza si è fatto male deve abbandonare il campo espulso all'ottantesimo minuto Gugerme per doppio cartellino giallo Allan ancora Fernandes la conclusione attenzione perché l'udinese è scoperta Zaza tutto solo Zaza punta il portiere Zaza se l'allunga Scuffet esce con i piedi in questo momento il signor Rosario Abisso di Palermo pone fine a questa partita Sassuolo che batte il guinese 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Grazie a tutti.